Qualche giorno fa il sindaco Leo Castiglione ha presentato la nuova giunta definendo questo un passaggio obbligato per rafforzare la compagine amministrativa al comune di Ortona e smettendo tutte le voci che parlavano di crisi. Ieri sera, prima seduta del Consiglio Comunale con la nuova scavadra chiamata a nominare il presidente dell'Assemblea. A sorpresa è stata eletta Federica Paolucci, consigliera di maggioranza, proposta dalla minoranza dal consigliere Gianluca Coletti a nome del gruppo di opposizione. La Paolucci ha ottenuto nove voti, otto della minoranza più uno. Perdonate il gioco di parole, ma c'è stato un bel colpo a sorpresa. Gli otto voti dei consiglieri di maggioranza sono andati ad Emore Cauti, il cui nome, seppur non proposto ufficialmente in aula da nessuno della maggioranza, era ricorrente per ricoprire quel ruolo. Il sindaco Leo Castiglione per il momento non ha rilasciato dichiarazioni, ma abbiamo ascoltato la neo-eletta presidente. Federica Paolucci è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Ortona. Una elezione un po' a sorpresa. La figura del presidente del Consiglio è una figura che è legata strettamente a quella del sindaco, quindi piena fiducia al mio sindaco, ringrazio chi mi ha votato e spero di compiere al meglio il mio nuovo ruolo. Si dà qualche spiegazione su com'è andata? No, in base alle votazioni, poi l'elezione avviene per maggioranza, insomma, quindi 9-8 è una elezione legittima. Quindi nessuno scossone alla maggioranza a Guida Castiglione? Assolutamente no. Piena fiducia al sindaco, continuiamo il progetto per il quale abbiamo iniziato e siamo pronti a lavorare tutti uniti, senza alcun dubbio. Grazie a tutti.